Non sono chi ha deciso, l'euro, chi ha deciso, qua l'abbiamo detto, non i cittadini, neanche i deputati, quattro stronzi, quattro coglioni, quattro coglioni, presidenti della Repubblica del Consiglio, uovo, all'euro fa cagare, quando io pago un gelato, quattro euro, nel culo lo metterebbe il gelato. La commissione si è arrivato col carriero della spesa, ci lo ricordiamo, è congelato col ghiacciolo da quattro euro, solo tu li paghi quattro euro, i greci non volevano l'euro, d'altra parte scusa per chiudere, la Svizzera ce l'ha avuto, l'Inghilterra ce l'ha avuto, perché l'hanno prendo per il culo?